Destano preoccupazione i nuovi avvistamenti di cinghiali a Pescara dove il sindaco Carlo Masci nei mesi scorsi ha firmato un'ordinanza che dispone che i proprietari mantengono puliti i terreni e i cittadini rispettino le regole per il conferimento dei rifiuti, secondo i giorni e gli orari stabiliti. Il consigliere comunale Armando Foschi ricorda che nell'ordinanza vengono messi in evidenza i rischi legati ai cinghiali, dai possibili attacchi all'uomo ai gravi danni all'ambiente, alle coltivazioni agricole e alle attività economiche artigianali nonché alla sicurezza stradale. Due cinghiali sono stati avvistati da automobilisti in transito ieri sera 20 aprile nell'area tra la scuola elementare e via Lago Isoletta in zona Colle Pineta. Il consigliere Foschi invita i cittadini a segnalare questi episodi ai carabinieri forestali e la polizia provinciale, considerata la pericolosità degli ungulati soprattutto se si trovano insieme ai loro cuccioli. Già nei mesi scorsi qualche cinghiale si è visto gironzolare nella zona della Pineta, via della Bonifica e lungo la pista ciclabile proprio in via della Pineta. Ieri sera i cittadini mi hanno inviato un video dove i cinghiali sono stati avvistati proprio tra le case. È pericoloso per i cittadini soprattutto quando vanno a conferire i rifiuti perché il cinghiale va a cercare il cibo e potrebbe anche aggredire le persone, soprattutto le persone anziane. Tra l'altro a quell'ora c'è chi fa la passeggiata con il cane, quindi il cinghiale si spaventa e potrebbe aggredire sia il cane che il conduttore del cane. Quindi bisogna agire con precauzione e cercare di fare rumore con un bastone o qualcosa per spaventarli e farli allontanare. Comunque è sempre consigliabile avvisare i carabinieri forestali perché possano fare un monitoraggio di questo fenomeno, che tra l'altro è un fenomeno che sta dilagando in tutta Italia. A Roma ormai sono arrivati al Colosseo i cinghiali. A Pescara sono stati fatti questi avvistamenti e comunque adottare la massima precauzione.